Ieri, domenica 21 aprile, in occasione del 69esimo anniversario dell'Eccidio di Montalto, in molti hanno sfidato il maltempo. Si è svolta infatti la decima edizione della Marcia della Memoria sulle Orme della Resistenza, una manifestazione che da anni consente di ripercorrere i sentieri dei partigiani. L'iniziativa è stata promossa dall'Ampi, dalla provincia di Macerata, dalla comunità montana dei Monti Azzurri e dai comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessa Palombo, Serra Petrona e Tolentino, e dall'Istituto Storico per la Resistenza a Mario Morbiducci, dall'Istituto Alcide Cervi e dalla CGL Cisle Will. L'inizio della manifestazione si è tenuto a Tolentino alle 8.30 con la deposizione della Corona in Piazza della Libertà alla presenza delle autorità. I partecipanti si sono poi recati in Piazza Vittorio Emanuele a Caldarola, dalla quale è partita la marcia a piedi verso Montalto. Dopo l'arrivo al castello di Montalto si è tenuto un pranzo conviviale e un concerto di vari musicisti marchigiani, ospiti dell'evento. È stato anche possibile visitare al Palazzo Comunale di Caldarola il Museo della Resistenza e la mostra sull'Olocausto.